L'Italian Sounding è un problema per l'intera filiera agroalimentare italiana. È facile poterlo scoprire nel momento in cui abbiamo consumatori che sono informati sulle qualità dei nostri prodotti e nel saper leggere le giuste indicazioni rispetto alla provenienza di ciò che viene utilizzato sia nelle fasi di lavorazione sia nelle fasi di trasformazione. Per poter arrivare a una consapevolezza piena dovremo lavorare come stiamo facendo in questi anni grazie al supporto di ICE nel creare cultura nei confronti dei consumatori di tutto il mondo. Lo faremo anche grazie all'utilizzo degli aspetti di carattere innovativo all'interno delle filiere agroalimentari con l'utilizzo e la gestione dei dati. Una sapienza unica, un patrimonio in termini di biodiversità che il mondo ci invidia. Basta tenere in considerazione che noi oggi rappresentiamo in una piccolissima superficie, se facciamo un paragone a livello globale, il 70% della biodiversità di tutti i prodotti di tutto il mondo. Sempre di più noi dobbiamo guardare la qualità, la tracciabilità, la sostenibilità come elementi distintivi nel nostro saper fare agricoltura e nel poter trasformare la nostra agricoltura, i nostri prodotti agricoli in eccellenza delle filiere agroalimentari.